Premio speciale Franco Cuomo Awards all'Università di Foggia, ritirarlo, ritira il premio Pierpaolo Limoni, il Ressore dell'Università, magnifica l'Università, non ci alzi, le motivazioni. È un premio, innanzitutto l'Università degli Studi di Foggia è presente, intanto bisogna dirlo, nella start-up che abbiamo appena premiato, quindi nell'aver creato l'incubatore giusto, quindi a dimostrazione che quando l'Università crede, è fattore di recupero anche di questi cervelli. Ci tengo in particolare a premiare con la giuria e col Franco Cuomo International dell'Università degli Studi di Foggia e nella figura del Rettore, il Professor Pierpaolo Limone, perché la nostra associazione ha puntato anche su enti e persone che consentono di recuperare anche un gap reputazionale importante. Della Puglia qui si è parlato e si parla sempre molto bene, ma bisogna anche riconoscere che ci sono delle situazioni complesse e che in realtà, come l'Università di Foggia, e qui è veramente un piacere dare questo premio e leggerne adesso le motivazioni, si è messa in evidenza. Allora, per il costante impegno nella promozione della cultura della legalità e nel puntare alla costituzione di una comunità coesa e consapevole, l'Università degli Studi di Foggia si è meritata il Franco Cuomo International World conferitole in collaborazione con l'Associazione per il Medio della Puglia. Fra le ultime iniziative menzioniamo in particolare i dialoghi sulla legalità, un ciclo di incontri promosso dall'Ateneo che nella scorsa primavera ha letteralmente riempito le proprie aule, anche virtuali, stimolando uno scambio tra studenti, docenti ed esperti del settore. Un esempio di come l'Università possa contribuire a creare anticorpi al diffondersi della cultura dell'illegalità diffusa e della violenza e a generare fattori di contenimento della devianza, insegnando quella che mi è molto piaciuta questa espressione, in una legalità circolare, dialogica, mettendosi a servizio dell'altro in una logica solidale. Complimenti davvero, ritira il premio, come abbiamo detto. Il rettore, il professor Pierpaolo Limone. Prego. Grazie davvero, è un onore straordinario, chiaramente grazie al nome dell'Università. Noi siamo una delle università più giovani d'Italia, abbiamo 23 anni e lavoriamo in un territorio estremamente difficile. Abbiamo avuto un'annata difficilissima dal punto di essere la criminalità. Il nostro comune è sciolto per mafia, cinque comuni principali intorno a Foggia sono sciolti per mafia. Il numero di reati che si sono compiuti quest'anno nel territorio è probabilmente, in rapporto alla popolazione, il più alto d'Italia. E in tutto questo però c'è una storia di successo, di riscatto, che nasce proprio nelle aule dell'Università. Negli ultimi tre anni la tendenza della migrazione dei cervelli dal nostro territorio si è invertita. In Italia il numero degli studenti universitari sta decrescendo, a Foggia cresce di due cifre ogni anno. Ed è un dato che non è merito ovviamente di chi vi parla, ma è merito di un'università fatta prevalentemente di giovani docenti che ci credono moltissimo, che fanno del loro lavoro in università anche un impegno civico. e le operazioni che stiamo facendo con le scuole, con i territori, con gli oratori della città spero che contribuiscano non solo a cambiare la narrazione, l'immagine, ma a sostenere tutto quel humus di creatività che è presente nel territorio e che aspetta la leva giusta per il riscatto. Grazie. Complimenti.